Una domanda sola, se è un incontro che in qualche modo la riporta in primo piano nella politica? No, ma assolutamente, io ho fatto anche un dibattito con l'Italia dei Valori della segreteria regionale, con Marucci, e ci siamo parlati, basta. Non tornerà in politica in prima persona, non pensa a una candidatura? Ma lei pensa davvero che la politica è candidarsi solamente? La politica ha molte forme, elaborazione, stare dalla parte dei cittadini è una passione. Però lei è un personaggio importante, potrebbe ricoprire un ruolo importante ad esempio nelle prossime politiche? La politica è una cosa importante, io sono un giornalista per adesso, la ringrazio e buon lavoro. Ce la fa una battuta sullo stato attuale della regione Lazio che lei ha governato? Lascio che siate voi giornalisti a raccontarla, grazie, buon lavoro a tutti. Grazie a lei.